Anche gli architetti sono esposti alla nuova ondata di liberalizzazioni, come valuta queste novità alla luce anche della sua esperienza romana? Devo dire che la mia esperienza romana è completamente diversa di quella che ho potuto maturare nel territorio da presidente provinciale e regionale. Ci occupiamo di argomentazione di carattere generale e capitiamo in un momento, come diceva lei, abbastanza difficile perché in adempimento dell'articolo 3 del decreto legge 138, così come è stato modificato dal decreto Monti, entro agosto tutti gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati. Noi stiamo lavorando per riformarlo, per redigere la nostra proposta di riforma entro gennaio, quindi lavoriamo gomito a gomito anche con le altre professioni e stiamo tenendo una serie di incontri decentrate nel territorio anche per sentire la base e per confrontarci anche con la deputazione locale, nella convinzione che poi in aula ci vanno i deputati, ci vanno i senatori, sebbene sappiamo bene che con questa legge elettorale il loro potere decisionale è molto ridotto, comunque sono i nostri interlocutori. Tant'è che il 21 di gennaio iniziamo questo percorso, lo iniziamo proprio da Agrigento, ci sarà il primo incontro, poi ce ne sarà il secondo a Palermo il 28, poi ce ne saranno altri in Sicilia, e chiuderemo a fine febbraio a Roma al Palazzetto dello Sport dove saremo in più di 10.000 e in quell'appuntamento presenteremo gli ordinamenti professionali, non soltanto degli architetti ma anche degli ingegneri, degli avvocati, dei medici, stiamo lavorando gomito a gomito con tutte le professioni. Poi chiaramente c'è da dire che c'è molta demagogia attorno alla parola liberalizzazione, si dice liberalizzazione ma non è che si capisce molto bene per quanto riguarda per esempio l'architetto, non è molto chiaro cosa ha da liberalizzare un architetto, un ingegnere, un geologo, anche lo stesso avvocato. Noi non abbiamo orari di lavoro da liberalizzare, non abbiamo limitazioni territoriali, non abbiamo nessuna limitazione, un architetto che si laurea a Palermo può lavorare a Treviso, può lavorare a Milano, a Torino, a Cagliari, non c'è nessuna limitazione territoriale, l'accesso è libero, semmai l'accesso non è libero all'università ma quella dovrebbe essere una riforma che riguardi l'ambito universitario, noi siamo portati a pensare che dietro questo termine della liberalizzazione possano generarsi altri progetti, il progetto di abolire l'ordine, l'ordine che diciamo non costa nulla oggi all'amministrazione statale ma ci potrebbero essere anche progetti ancora più importanti, più gravi devo dire, come l'abolizione del valore del titolo legale della laurea.